... Benvenuti a questa nuova puntata di Sociale Imperia TV e vi presentiamo subito il nostro ospite, l'avvocato e scrittore Alberto Pezzini. Alberto Pezzini, lei insieme al collega Giorgio Lombardi è autore del volume e dà la titolo L'amministratore di sostegno. È così? È così. Io diciamo che ho partecipato in una misura molto modesta rispetto al lavoro egregiamente svolto dal mio amico caro e grande avvocato romano Giorgio Lombardi, che è quello che ha curato la parte più cospicua del volume, cioè la parte civile. Io mi sono dedicato a una parte molto più limitata che è quella penalistica, quindi il mio lavoro è strettamente funzionale soltanto esplorare quella parte. Ecco, è un libro dedicato agli operatori del settore? Direi proprio di sì, perché è nato forse come una specie di divertissement per entrambi. Però credo che si possa utilizzare come un vademecum molto agile, molto snello, per tutte le problematiche che oramai oggi accompagnano la figura dell'amministrazione di sostegno, che è diventata, come dice anche l'espressione stessa proprio, una figura intermedia che sostiene tutti coloro che si trovano e versano in certe condizioni di minorità, anche temporane. Quindi in che modo può aiutarli? Può aiutarli a disimpegnarsi in quelli che sono, diciamo, le attività quotidiane anche, anche se le attività strettamente quotidiane vengono lasciate sempre nell'ambito della possibilità dei cosiddetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno. Chi per esempio ha una persona disabile che non è in grado di curare autonomamente i propri interessi, gioco forza deve rivolgersi all'amministratore di sostegno, che è quello, per essere molto concreti, che ti paga anche le bollette. Quindi oltre a curare, naturalmente, tutta una serie di interessi molto più intensi, ecco, più importanti. Ecco, entriamo nel merito. È una norma interessante quella dell'amministratore di sostegno? Allora, la norma dell'amministratore di sostegno è sicuramente una norma molto interessante perché è la norma che in qualche modo ha relegato in una zona d'ombra le figure più invasive dell'interdizione e della inabilitazione. Una volta, quando avevamo un familiare, un conoscente disabile, per forza, gioco forza, dovevamo rivolgerci a queste due forme di tutela. Ma erano tutele, sono ancora, forme di tutela molto invasive. L'amministrazione di sostegno, invece, è una forma molto duttile, molto elastica e molto di aiuto nei confronti delle persone, nel senso che ha a cura, soprattutto, il beneficiario, le sue esigenze, il legislatore dice, soprattutto, le sue aspirazioni e i suoi bisogni. Ecco, seguono comunque indicazioni su altre norme, restando in tale ambito? Ebbè, certo, c'è tutta una serie. Diciamo che questa figura dell'amministrazione di sostegno è nata nel 2004 e ha rivoluzionato un po' l'impianto, naturalmente codicistico, del nostro Codice Civile in questo tipo di materia. È interessante scoprire come poi, da questa norma e dall'adozione di questo tipo di istituto, è nata tutta una serie di norme, che naturalmente sono quelle relative alla nomina dell'amministratore di sostegno, alla revoca, ai poteri, alla potestà. Diciamo che il nucleo fondamentale dell'amministrazione di sostegno resta il cosiddetto decreto di nomina, che è un po' la carta d'identità dei poteri dell'amministratore di sostegno. Veniamo al suo volume. La prima parte è dedicata alle norme di diritto civile. Ecco, come viene affrontata? Diciamo che noi abbiamo, come dicevo poc'anzi, adottato un taglio molto agile, molto giornalistico per parlare nell'ambito che naturalmente le è caro, anche perché questo deve essere un manualetto pensato naturalmente non soltanto esclusivamente per gli stretti operatori del diritto, cioè avvocati, magistrati, ma anche per coloro che operano all'interno della materia giuridica, quindi anche i servizi sociali e quant'altro. Quindi un taglio molto immediato. Abbiamo cercato di impreziosire sia la parte civilistica che, ripeto, nella mia modesta veste, la parte penalistica, con degli spunti interessanti tratti della giurisprudenza di merito, perché oramai è la giurisprudenza che ci aiuta, sembra, a affrontare la realtà. La seconda parte, invece, affronta il tema, come diceva prima, dell'infedeltà e violazione delle norme di diritto penale. Ecco, in che modo? E beh, anche qui sono andato a selezionare alcune sentenze della Cassazione Penale molto recenti, in cui è stato in qualche modo isolato il ruolo, ma soprattutto la figura di quello che chiamiamo un po' icasticamente, molto efficacemente, l'amministratore di sostegno infedele. L'amministratore di sostegno infedele noi lo associamo a quello che distrae i fondi del beneficiario, quindi non vi dico altro. Questa è la figura archetipica, però ci sono delle elaborazioni giurisprudenziali molto importanti e molto significative, e cioè è possibile considerare infedele un amministratore di sostegno per il semplice fatto di, diciamo, riversare i fondi del beneficiario sul proprio conto corrente, senza che ci sia una materiale a prensione. Qui la Cassazione ha adottato una specie di orientamento in base al quale se l'amministratore di sostegno, pur essendosi riversati i denari sul proprio conto, non li utilizzi, quindi in qualche modo non ne demolisca l'ammontare, non si può considerare un amministratore infedele. Il caso è un caso concreto che è stato affrontato dalla Cassazione ed era stato risolto in questo modo, anche perché questo amministratore, presuntamente infedele, parte di questi, diciamo, denari li aveva poi riutilizzati, reinvestendoli fruttuosamente a vantaggio del beneficiario. Ho letto di questo suo volume la prefazione di Mauro Vaglio, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che dice uno scritto semplice per una materia complessa. Ecco, è davvero così una materia complessa? Tantissimo, tantissimo. È una materia tutto sommato abbastanza nuova, se si pensa, ripeto, l'impianto normativo del 2004, quindi non è che sia passato un secolo. Ed è una materia che ogni giorno si alimenta, ovviamente, di casi concreti. Noi sappiamo che il mondo del sociale, ma soprattutto il mondo del bisogno, che nasce anche dai casi di maggiore disabilità, ma anche da quelli più modesti, è una specie di Duomo di Milano, di opera in fieri, cioè un'evoluzione completa. Quindi la materia è sempre più delicata, perché poi la Cassazione, naturalmente, mutua e registra degli orientamenti che ogni volta si conformano all'evolversi dei tempi. È un po' l'aspetto evolutivo del diritto. Vaglio, io, chiaramente un amico di Giorgio Lombardi, è una figura di primo piano nell'avvocatura romana, è stato molto gentile scrivere anche queste parole per noi. Bene, avvocato, siamo giunti alla conclusione. Vi ringraziamo per averci seguito. Grazie a lei. Grazie di essere intervenuto. Vi do appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.